21 alla seconda sarà per 7, 21 per 21, 7 per 3, per 3, per 7. 21 alla seconda, la sconfizione di frattore è questa. 530. 53 per 11. 321. Prima. 930. 312. 313. 313. 212. 29 per 7, 29 per 7. 203, 29 per 4. 203. 203. E' solo scritto male il suo 7. Sempre un uomo. Eh, no, allora 203, 29 per 7. E' 7. Ma tu cosa mi hai chiesto? No, no, non lo so. E' lui che scrive male. Eh, scrivo male, io ti ho capito. Lo so. Non lo so. No, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. 3. 7. Grazie a tutti.